Se riscontrate problemi riguardo a Logitech G-Hub e quindi in questo caso se lo avvii e disicarica all'infinito e non si avvia neanche può essere un problema riguardo ad alcuni driver nella sua cartella. Quindi in questo caso possiamo sempre ripristinare una sorta di file che si trovano così nella sua cartella attraverso AppData. Quindi è facilissimo. Andiamo direttamente su Esegui. Qua sopra vai a scrivere %AppData% per entrare così nella cartella AppData. Clicca qua sopra AppData, vai su Local, scendiamo fino a giù fino a trovare così la cartella di Logitech G-Hub. Se la trovo, eccola qua, L-G-Hub. Cancelliamo così questa cartella. Prima di cancellarla assicurati di chiudere il programma, anche se è aperto il programma però non si avvia. Quindi chiudo, faccio riprova, voto anche il cestino e basta. Una volta fatto. Se non dovesse avviarsi puoi semplicemente reinstallare così il programma sul sito ufficiale di Logitech G-Hub. Download per Windows e adesso apriamo il programma come amministratore. Quindi vai a scrivere qua sopra Logitech G-Hub e esegui come amministratore. Facciamo sì, grazie. Facciamo ignora, ignora. Rimane aggiornato. No, grazie. E basta. Ora il programma si è avviato senza nessun problema. Ripristinando così la cartella oppure puoi semplicemente reinstallare l'applicazione e avviarla come amministratore. Quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.